Appariva così alle 10 di questa mattina il parcheggio di Campo Imperatore, una distesa perdita d'occhio di automobili, moto e soprattutto camper. In migliaia stanno prendendo d'assalto la stazione turistica ai piedi del Gran Sasso, portando gioia ed economia, ma anche mettendo in luce i problemi strutturali decennali di cui soffre la località turistica. Alla carenza di parcheggi a cui il centro turistico del Gran Sasso sta facendo fronte con una razionalizzazione degli spazi, fino all'utilizzo della stazione delle Fontari, in attesa di poter progettare una nuova area camper, si aggiunge un nuovo fenomeno problematico, il camperista improvvisato. La paura del contagio da Covid, le limitazioni nel Green Pass per le famiglie con i minorenni, la moda nel noleggio camper, sono solo alcuni degli impulsi per la scelta di questo mezzo di vacanza, che spesso denunciano gli operatori turistici, comporta anche assenza di cultura del camper e assenza di rispetto delle regole della natura. La gente compra un camper, l'assessante camperista, invece andrebbero fatto un codice, c'è un codice da rispettare, un codice di rispetto dell'ambiente innanzitutto, perché dato che i camperisti possano andare, i campeggiatori in genere possano andare dappertutto, ci vuole un codice di rispetto che sia, è un codice anche morale oltre che scritto, quindi di rispetto dell'ambiente, perché quando il camperista scarica i liguami sopra il prato fa un danno, quando lascia i rifiuti sopra un angolo di una strada fa un danno, quindi sarebbe opportuno, non sanzionare, perché non credo che siano le sanzioni necessarie, istruirli, istruirli spiegandogli come funziona, forse non se ne rendono nemmeno conto. Il centro turistico del Gran Sasso ha posizionato due cassoni per la raccolta dei liguami, ma lo svuotamento di due giorni fa, in una data fondamentale a ridosso del Ferragosto, è stato impedito dal fatto che nei cassoni stessi sono stati ritrovati rifiuti di ogni genere e liquami in bottiglia. Dentro il carico dei liquami ci hanno messo i rifiuti soliti, quindi ci hanno intasato tutto e con difficoltà anche di pulirlo. Comunque stiamo cercando di sopperire a quelle che sono delle carenze da sempre sul Gran Sasso, la riduzione della superficie destinata ai parcheggi è una cosa che è sempre stata cronica. Siamo strutturati, abbiamo messo dei bagni di nuova generazione, simpatici, con rubinetti d'acqua, ma vengono sanificati tutti i giorni, due volte al giorno, sia i bagni sia la punivia, tutto quanto, tutto il locale, tutti i locali, quindi diciamo sì, sono decorosi, sono abbastanza decorosi. Grazie. 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 Grazie.